momento del negozio oggetti dai coz andiamo subito a vedere che cosa esce codificatore vander trattino altocrippi sempre attivo se lo usate taggatemi rotellame ci dovrebbe essere appena stato allora walking dead walking dead è rimasto l'occhi è rimasto le altre skin marvel pure sono rimaste john wick ancora qua tartarughe ninja le guardiamo velocissimamente 3.400 tutto il bundle e la skin le skin con i loro backpack e le loro armi belle prima o poi sono da sciopare almeno una 1.600 prese singole leonardo michelangelo donatello che indubbiamente la mia preferita raga questa qua penso che prenderò lui e poi raffaello anche questo ci sta abbastanza abbastanza carino poi abbiamo il bundle di april o'neill 1800 vbac la skin singola 1.500 con il il suo zainetto l'aggiuntivo diciamo è carino questo che si può personalizzare in con il colore delle quattro tartarughe ninja e con uno spray da buttarci da buttarci sopra eccolo quasi anche non mettere niente raga ovviamente ci sta una cifra 800 il il piccotto così così invece poi c'è l'altro quello di splinter il bastone super triardino raga 800 vbac va a sostituire l'ascione di kratos questo rumore che fa per chi non ce l'ha può prendere questo qui poi vabbè c'è splinter 1500 vbac sirena e le altre skin sono rimaste la nuova skin bruttissima è rimasta poi abbiamo iperion 1200 vbac eccolo qua super palestranza e poi pesce secco di palude raga che non usciva da un po ci sta è carina questa questo pesce secco qua dietro alla schiena lampade paludose eccole lì sono animate non so se sono reattive si illuminano sicuramente al buio sanctum invece 1500 vbac cozzi due stili predefinito è il secondo stile rosso poi abbiamo frontiera 1200 vbac primo stile predefinito secondo stile senza cappello luna crescente 1200 vbac sempre due stili anche questo qui predefinito è il rosso e corno lungo 800 vbac cozzi questo pure ci sta soltanto uno stile e poi in corso le rally super a tema prossima stagione con la maschera e senza maschera e le alette super colorate ali consunte dietro alla schiena raga è stilosissima sta schiena guardarla bene da vicino non sembrava poi è tornato anche sic al tutto il bando al 2100 la skin che poi ha due stili con l'elmo con la maschera anche qui un elmo un po così così e senza e dietro alla schiena ascia scudo e frecce poi il piccotto che è una benedizione dell'arena fa questo solo qua e poi ragazzi ha il micidiale il deltaplano dov'è che eccolo qua cerbero anche questo a tema season 1500 vbac cozzi poi si fermano qua perché il resto è tutto al solito quindi ci fermiamo anche noi domani dai dalle tre del pomerello sul canale io allora vediamo se fare forte tra che perché aveva un po stancato un po tutti effettivamente fine season così così però devo finire di fare livelli con nonna banderina quindi domani alle tre del pomeriggio sul canale viola seguiva di venire a giocare ciao